Il primo ruolo di aggregazione Il primo ruolo di aggregazione Il percorso Queste sono delle autentiche Abbiamo quasi 150 Il ruolo di Alessandro VI C'è mezzo a Borgia Ecco qua i segni della festa Questa è della confraternita del Sacro Cuore di Gesù che c'era davanti Il primo ruolo di manze Lo stentato Però non c'è più No, la della della è ormai L'ultimo è morto Tre battesime Non mancherà l'occasione Non mancherà l'occasione Non mancherà l'occasione Che c'è Che c'è Bene, passiamo a andare